Completata l'installazione, sono cominciate le prime prove tecniche di accensione della Biosfera di Piazza del Popolo che sarà inaugurata sabato 24 febbraio alle 18.30. Biosfera che sarà l'installazione iconica permanente per l'intero 2024 di Pesaro Capitale della Cultura collocata fra la Fontana e il Palazzo delle Poste. Una Pesaro Capitale in cui in questo caso il leitmotiv, la natura della cultura, si fonda prepotentemente ad un terzo elemento, quello della tecnologia. Già perché la Biosfera sarà una scultura interattiva unica nel suo genere su scala europea. Un progetto partorito dall'idea di ricreare per Pesaro Capitale della Cultura un simbolo iconico analogo a quello che fu l'albero della vita per l'Expo di Milano. Da questa esigenza identitaria nasce la Biosfera realizzata con un appalto da 650.000 euro frutto di un investimento della Casa delle Tecnologie Emergenti per la quale Pesaro ha vinto un bando con finanziamenti superiori agli 11 milioni di euro. CTE che ha incontrato a tal scopo la creatività di Federico Rossi e Andrea Santichia, professori universitari a Londra e San Marino, che attraverso la start-up Artifact hanno progettato una sfera che tramite 2 milioni e mezzo di LED produrrà tre generi di contenuti interattivi illustrati oggi in conferenza stampa. Il progetto è nato circa ottobre del 2023 quando abbiamo fatto la proposta di ricreare una nuova versione digitale di quello che è il simbolo di Pesaro, un po' riferimento ovviamente alla sfera di pomodoro, ma reinterpretando in maniera totalmente diversa il modo di far vedere i contenuti. Quindi abbiamo puntato sulla tecnologia LED. In questo caso abbiamo utilizzato dei pannelli LED, circa 2.5 milioni di LED montati su 150 tile che vanno a rivestire una superficie di circa 52 metri quadri e sono controllate anche con dei sensori. Quindi la scultura, perché è una scultura interattiva, un'opera d'arte, servirà a interagire tra contenuti digitali già registrati, ma anche interagire con tutto quello che succede attorno. I contenuti saranno di tre tipi. Il primo è il contenuto che noi chiamiamo istituzionale, che mostrerà le bellezze di Pesaro. Il secondo contenuto è quello di data visualization e legato al climate change, perché vogliamo mandare un massaggio per il futuro e per i giovani. Il terzo contenuto invece è quello più importante, sarà quello artistico e la biosfera sarà una vera e propria scultura vivente che interagirà con il pubblico sia con la presenza sia con la sua assenza. Quindi è una scultura che si plasma a seconda di quante persone sono attorno alla sfera o rileva i movimenti, l'afflusso della gente. Un modo per essere collegati al mondo, per collegare il mondo a Pesaro e soprattutto per farne un punto di ritrovo dei visitatori della capitale italiana, ma anche dei cittadini che crediamo si affiazioneranno anche alla versatilità degli usi di questo strumento, che potrà interagire con musicisti, potrà interagire con artisti. Stiamo valutando anche di fare presto anche un concorso internazionale per contenuti, per sonosfera, perché di fatto è un parincesto che può essere acceso in qualsiasi ora del giorno o della notte, quindi avere tante occasioni creative e di racconto della nostra città, ma anche di quello che accade nel mondo. Sabato alle 18.30 Pesaro attende dunque un'altra grande festa di piazza per l'inaugurazione. Una piazza in cui la biosfera resterà per tutto il 2024, ma che anche dal 2025 in poi resterà alla città, presumibilmente in un'altra collocazione. Saluteremo in base all'esito, in base alle proposte, in base anche alla trasformazione della città, perché stiamo riqualificando anche diversi spazi dove poter essere collocata. È chiaro che ha bisogno di un certo numero di metri di altezza e ha bisogno anche di una certa resistenza del pavimento. Detto questo non escludiamo nessuna possibilità, compreso come detto anche quello di fare uno strumento di diplomazia culturale, magari con altre capitali italiane o europee che stanno giungendo per creare anche un ponte ideale da questo punto di vista.